Allora, ti devo fare una domanda, chi è Ale? È un tuo amico Ok, e come si chiama il fidanzato di Ale? Marco, ma poi perché mi stai filmando? È una domanda, tu rispondimi e basta, ok? E secondo te è normale che Ale abbia un fidanzato? Ha una domanda tra bocchetto? Non è una domanda tra bocchetto, è una domanda serissima, quindi rispondimi Per te è normale che Ale abbia un fidanzato? Seri, seri, non me l'avete chiesto Che cosa vuol dire? Ti ho fatto solo una domanda, no? Puoi rispondermi sinceramente? Avresti dovuto chiedermi se è simpatico il fidanzato di Ale? Mi chiesto male che abbiamo fidanzato Puoi non fare polemica per qualunque cosa? Per una domanda, vecchio? Ho detto la tua domanda Ma che cosa vuol dire? Ma perché state fatte in un video senza di me? Perché ridete? State fatte in un quiz senza di me? Non stiamo facendo un quiz Ho chiesto a mamma che cosa ne pensavo del fidanzato di Ale Perché non vorrei chiesto anche a me? Oh, non ci posso credere Oh, non ci posso credere